Ciao a tutti ragazzi io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video Allora oggi farò un video serio in cui vi voglio parlare di una novità che durerà per tutto il ciclo di vita del canale Iniziamo Ho deciso ragazzi di mettere ogni singolo commento in revisione Molti di voi non lo sanno cosa significa Allora praticamente YouTube ha un'opzione che permette di trattenere i commenti per revisione In questo modo potrete leggere i commenti Potrete leggere i commenti e decidere voi se approvarli o meno Questa funzione è utile per evitare commenti che contengono brutte parole Commenti offensivi E commenti poco carini in generale Questo è un buon metodo Per farlo bisogna farlo da PC Entrando nell'account del canale Impostazioni Community E mettere la spunta su Trattieni commenti per la revisione Che cosa succederà una volta attivata questa opzione Una volta attivata questa opzione Prima che il commento non viene pubblicato ma viene messo in moderazione E poi come ho già detto Aspetterò a voi decidere Voi vi chiedete perché voglio fare questa cosa Perché io Non voglio commenti offensivi nel mio canale Non devono esistere E' per questo che ho deciso di fare questo video Perché l'educazione per me viene sempre al primo posto Voi fatemi sapere se la pensate come me Giù nei commenti Se la pensate come me Perché io Qui su YouTube Ho una dignità E io non permetto a nessuno Di calpestare la mia dignità Qui su YouTube Bene ragazzi Con questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Spero che questo video Vi abbia aiutato a riflettere Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Z.alfio Ve lo metto qui in sopra Attivate la campanella E le notifiche E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi